Quando si parla di carcere, di detenuti, di pena, la discussione non è mai semplice. I pareri sono spesso discordanti e si fa fatica a costruire percorsi che puntano alla rieducazione e al recupero di persone che hanno commesso reati, anche gravi o molto gravi. Ma è la strada intrapresa da un po' di tempo da Maria Lucia Vantaggiato, direttrice della casa circondariale di Lanciano, luogo di massima sicurezza, che insieme agli altri operatori e alla polizia penitenziaria sta appunto portando avanti una serie di progetti importanti. E oggi, 21 marzo, non è solo la data che segna l'inizio della primavera, è anche la giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia, ed è pure la giornata mondiale della pace interiore a quest'ultima particolare ricorrenza che è stato dedicato a un momento speciale che conclude un corso di nove mesi dedicato allo yoga e alla meditazione, al quale ha partecipato un gruppo di detenuti. L'atmosfera nella sala che questa mattina ha ospitato uno spettacolo di danza indiana sembra davvero distante da quella di un carcere inteso come luogo cupo privo di stimoli e di speranze. Invece è proprio la speranza che si vuole restituire in un giorno contraddistinto da un comune denominatore, quello della rinascita. Oggi è la giornata mondiale della pace interiore, oggi è stata anche indetta giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia. Un comune denominatore, come diceva già la giornalista, appunto questo senso di rinascita, di rigenerazione, quello che all'interno dell'Istituto di Lanciano, ma di tutti gli istituti d'Italia, si cerca di fare, cioè fornire opportunità per percorsi di consapevolezza, per percorsi di rieducazione, per fare in modo che le persone possano uscire, tornare in libertà, con delle opportunità in più, cioè con degli strumenti di riflessione ulteriori. Anche perché dal nostro punto di vista, ma è un punto di vista istituzionale, servirebbe davvero a poco una pena detentiva che prenda male e reimmetta male, cioè non avremmo fatto un servizio alla società. Quindi fornire alle persone detenute durante questo spazio e questo tempo di carcerazione delle opportunità di riflessione, dei percorsi di consapevolezza, è utile perché ci consente di raggiungere l'obiettivo istituzionale del reinserimento della rieducazione. Il percorso di Saja Yoga, uno dei tanti percorsi trattamentali del penitenziario, è appunto uno strumento che consente questo, un po' un viaggio all'interno del sé, alla ricerca dell'equilibrio, della verità, della pace interiore, perché solo chi ha pace riesce poi anche a dare pace, quindi fondare delle dinamiche sociali differenti, sperimentare un altro modo di vita. Sono dunque tante le iniziative qui in carcere, lo ribadiamo di massima sicurezza, ma come rispondono i detenuti a questi progetti, tutti indirizzati a ritrovare e a riscoprire la parte migliore di ognuno. Sono tante in effetti le iniziative sempre su questo light motive comune, proprio perché cerchiamo di fornire queste opportunità, lavoriamo sempre molto sul percorso di consapevolezza, sulla ripercorrere la propria storia di vita, a tutti i livelli utilizzando quelli che sono gli elementi del trattamento, quindi la religione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive, la formazione, sempre però cercando di dare un taglio di questo tipo. Il calcio per esempio non è solo calcio, è appunto anche allenamento, per rimanere nella terminologia, è anche allenamento proprio al gruppo, al rispetto dell'altro, all'andare avanti sfruttando al massimo le proprie personali risorse e anche l'occasione per ottenere successo all'esito di un percorso onesto lineare, non un successo da subcultura criminale, un successo onesto da convivenza civile. Quindi ogni elemento del trattamento cerchiamo di significarlo, di contestualizzarlo nel nostro lavoro secondo questo taglio, ricerca di significato. Certo, è tutt'altro che facile dirigere un carcere, soprattutto quando si cerca e si lavora per privilegiare il binomio sicurezza e reinserimento, quando si prova, nei fatti, a rendere la pena non solo detentiva. La sicurezza è qualcosa, è un valore che deve essere lavorato nel profondo, perché il carcere è privazione di libertà, lo sappiamo, è una pena afflittiva, è segregazione, è neutralizzazione del criminale, è tante cose brutte. Il carcere è brutto, però il carcere deve diventare, proprio per far sicurezza in termini sostanziali, deve anche diventare uno spazio e un tempo in cui ricercare e conquistare la libertà vera, che non è la libertà, diciamo, spendendo la quale si è arrivati al carcere, ma è la libertà, proprio la libertà dagli individualismi, dalle passioni, dagli egoismi, da tanti anche condizionamenti ambientali. Cioè è la libertà vera, se vogliamo fare sicurezza, ma davvero credendoci, davvero per rendere un servizio sociale a tutti quanti noi, bisogna lavorare veramente sul concetto di libertà. Molte persone arrivano al carcere per una ragione ben precisa, perché c'è stata un'esaltazione dell'io irresponsabile. Quale sia stata la causa di questa esaltazione? C'è stata. Allora, ridimensionare l'io, pensare che viviamo in un sistema, che le nostre azioni ricadono sugli altri, è importante, è importante per fare sicurezza vera e per uscire veramente da questa esperienza con il concetto di libertà vera.